BioCH70 è un biotrituratore green dedicato a chi cerca una macchina molto potente ma anche compatta e quindi facile da trasportare e manovrare nel zardino. È dedicata quindi a obbisti molto esigenti e a professionisti del verde. Questa macchina permette di triturare fino a 70-75 mm di diametro e lavora bene sia sul verde che sul secco. Questo grazie a un disco di taglio con due lame e 12 martelli. Il tubo di scarico è orientabile quindi posso scegliere dove manovrarlo e dove orientare lo scarico del materiale lavorato. Il trasporto di questa macchina è facilitato da un carrello con gomme antiforatura e da uno studio sul bilanciamento dei pesi che permette quindi di manovrarlo anche negli spazi più piccoli. Grazie a tutti.